La fotocamera di un telefono cellulare come l'iPhone 15 Pro dovrebbe essere uno strumento molto facile da utilizzare e invece andremo a vedere nel corso di questo video che non è proprio così. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi vi guiderò attraverso le opzioni della fotocamera di un iPhone 15 Pro. Troverete probabilmente la maggior parte delle stesse opzioni su altri modelli di iPhone ma andiamo a vedere l'ultimo modello per avere tutte le opzioni disponibili. Vedremo nel corso del video che alcune cose sono facili e scontate ma altre possono addirittura essere controintuitive per cui vi invito a guardare questo contenuto fino alla fine. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati su diavolerie tecnologiche, fotografiche eccetera eccetera. Perfetto, eccoci qui all'interno della fotocamera di un iPhone 15 Pro. Come potete vedere questa è la prima tab su cui ci troviamo quando apriamo la fotocamera. Questa ovviamente è la tab delle foto. Ora noi andremo a scorrere e andremo a selezionare la prima tab ovvero la tab timelapse così andiamo a vederle per ordine. Ora in questa tab come potete vedere c'è una freccina qui a sinistra. Nel momento in cui andiamo a premerla compare l'unica opzione disponibile durante la registrazione del timelapse che è l'esposizione. Noi possiamo fissare un valore di esposizione compreso tra meno 2 e più 2 e quindi possiamo andare a registrare il nostro timelapse dicendo al nostro telefono che vogliamo sovraesporre o sottesporre. Non faremo nulla di tutto questo perché l'iPhone la maggior parte delle volte se la cava bene da solo. Un'altra cosa che è interessante vedere è che abbiamo la possibilità di selezionare le classiche camere che abbiamo sul nostro dispositivo fotografico. Quindi possiamo selezionare il 3x oppure possiamo selezionare il 2x, l'1x o lo 0x5x. Quindi possiamo andare a selezionare tutte le fotocamere classiche, tutti gli obiettivi classici che troviamo su questo dispositivo fotografico e possiamo quindi andare a iniziare il nostro timelapse. Il timelapse fondamentalmente è un video che registra una foto ogni tot secondi. Come potete vedere in questo momento l'iPhone sta registrando una foto ogni tot secondi e il mio video andrà a essere composto di queste foto e sarà quindi un video che si muoverà molto rapidamente nel tempo. Sarà un video adatto a mostrare degli eventi che si svolgono lungo un arco di tempo anche abbastanza lungo. In netta contrapposizione abbiamo l'opzione successiva che è Slow Mo. Questo è lo Slow Motion e come potete vedere qui in alto a sinistra abbiamo le opzioni HD che non possiamo modificare mentre possiamo modificare gli FPS. Quindi possiamo modificare tra 120 e 240 FPS. Ovviamente a seconda di quello che facciamo avremo una resa diversa perché 120 frame al secondo avremo uno Slow Motion di un certo tipo 240 avremo uno Slow Motion molto più lento e molto più importante. In questo caso vedete che se vado a selezionare la mia freccina qui a sinistra mi vengono fuori delle opzioni che sono piuttosto limitate. Abbiamo di nuovo l'esposizione più 2 meno 2 che anche in questo caso lasceremo a 0. Abbiamo inoltre l'opzione di girare la fotocamera quindi possiamo girare in Slow Motion anche con la fotocamera frontale. Come potete vedere cambia molto poco abbiamo girato la fotocamera e qui possiamo girare solamente a 120 però questa era una cosa che sospettavo e abbiamo la conferma con la fotocamera frontale possiamo fare lo Slow Motion ma solamente a 120 e ovviamente non possiamo più cambiare fotocamera. Quindi anche qui abbiamo a disposizione la 05 abbiamo a disposizione la 1 non abbiamo a disposizione la 2 ma abbiamo a disposizione la 3x. Passando oltre vedete che abbiamo la modalità cinema. Avevamo già parlato di questa modalità in un altro video uscito di recente. Questa è una modalità che va a tenere a fuoco solamente la cosa in primo piano e va a sfocare tutto il resto. È una modalità che ci permette di utilizzare l'1x e il 2x ci dà un effetto cinematografico e qui come potete vedere stiamo girando in 4k ma possiamo cambiarlo. Possiamo fare 4k a 24 frame al secondo oppure 30 frame al secondo oppure possiamo fare Full HD a 30 frame al secondo. Abbiamo la possibilità di gestire la profondità di campo quindi io gli posso dire F16 e sarà quasi tutto a fuoco oppure gli posso dire F2.0 e sarà abbastanza sfoccato. Ovviamente è una simulazione quindi nel momento in cui vediamo i particolari sfocati ci sarà sempre qualcosa che sfarfalla. Inoltre io personalmente riscontro che questa modalità sottoespone decisamente la scena quindi avremo una scena più buia rispetto alle altre modalità cosa che non mi fa proprio impazzire. Anche in questo caso possiamo girare la fotocamera e quindi utilizzare la fotocamera anteriore e come potete vedere l'effetto se ci può stare non è neanche malvagio a me personalmente non fa impazzire perché la transizione tra quello che ha fuoco e quello che non lo è più è molto artificialona è un pochettino forzata io la trovo digitale quindi non mi fa impazzire non mi piace però vi segnalo che c'è. Proseguiamo e la prossima cosa che troviamo è la modalità video normale. Questa qui è una normalissima modalità video dove possiamo avere la macro se andiamo molto vicino ma possiamo anche toglierla. Abbiamo il 4k ma abbiamo anche il full hd quindi 4k 30 60 o 24 fotogrammi al secondo full hd a 30 o 60 fotogrammi al secondo. Abbiamo la possibilità di registrare in proresa hdr anche se questo funzionerà solamente se attacchiamo un hard disk esterno ssd infatti come potete vedere mi dice che non posso farlo. I formati più professionali funzionano solamente con un hard disk esterno collegato al nostro telefono. Anche per il video abbiamo la possibilità di utilizzare la camera da 0.5 la camera da 1 e la camera da 2 e la camera da 3x. Come potete vedere non so se ve ne rendete conto però sul video rispetto alla foto abbiamo un leggerissimo crop quindi nel momento in cui io sono su foto il mio fotogramma è questo nel momento in cui io sono su video vedete che sempre con la 1x l'inquadratura è diversa sul video c'è un leggero crop. La cosa è perfettamente normale anche perché il formato è diverso. Se andiamo a premere qui sul triangolino abbiamo la possibilità di vedere un po' di opzioni tra cui abbiamo la nostra solita esposizione abbiamo una modalità azione che francamente non ho mai usato credo che stabilizzi l'immagine in una modalità diversa forse aiuta a tenere dei tempi di shutter più rapidi in maniera tale da catturare correttamente l'azione vi dirò che personalmente non l'ho mai usata. Passiamo oltre abbiamo la modalità foto tradizionale ora qui se andiamo a premere la nostra freccina vedete che abbiamo a disposizione un po' più di opzioni. Innanzitutto abbiamo la modalità live foto possiamo decidere se automatica o sempre oppure disattivata personalmente la tengo disattivata perché non mi fa impazzire. Abbiamo le modalità del flash quindi flash non attivo flash attivo o flash automatico personalmente vi dirò che io lo tengo spento lo uso in rarissime situazioni. Abbiamo la possibilità di applicare degli stili quindi con quest'icona vedete che posso andare ad applicare e personalizzare degli stili quindi questo è anche interessante perché io potrei andare a salvarmi dei preset che vado a utilizzare poi successivamente quindi caldo freddo brillante diventano abbastanza indicativi come termini perché poi posso andarli a modificare e questa è una cosa carina è una cosa che non mi dispiace. Abbiamo la possibilità di scegliere alcuni formati tra cui c'è il 4 terzi che è quello che io consiglio perché è quello del sensore pieno. Abbiamo anche l'1 a 1 quindi il formato quadrato abbiamo anche il 16 noni che io sconsiglio io consiglio di mantenere il 4 terzi perché qualsiasi altro formato è un crop quindi io vi consiglio di tenere questa modalità. Abbiamo come sempre la nostra esposizione e ultima cosa abbiamo l'autoscatto quindi abbiamo un timer disattivato che è quello impostato di default. Abbiamo la possibilità di impostare 3 secondi o 10 secondi quindi se vogliamo farci un autoscatto questa è la modalità da impostare. adesso io lo vado a rimettere su off. Sempre in questa modalità vedete che qui in alto a sinistra abbiamo la possibilità di deselezionare raw max. Questa possibilità va abilitata nelle opzioni ma ci permette di scattare le nostre fotografie in formato dng. È una cosa che viene disabilitata automaticamente quando usciamo dalla fotocamera e per un ottimo motivo perché le immagini registrate in questa modalità pesano tantissimo e hanno una resa diversa rispetto al jpeg tradizionale. Andando avanti vedete che abbiamo la modalità ritratto. Questa è una modalità che ci permette di utilizzare la camera da 1x, da 2x oppure da 3x. È una modalità che personalmente io non amo però come potete vedere ci permette di realizzare una fotografia con lo sfondo sfocato quindi è un po' l'equivalente volendo della modalità cinema. Ci permette di sfocare artificialmente lo sfondo in maniera digitale e di ottenere uno sfondo sfocato laddove il nostro telefono nativamente non sarebbe in grado di farlo. Abbiamo anche la possibilità di gestire la luce questo si vede molto meglio nei ritratti. Ovviamente si riesce a vedere qualcosina anche su un'immagine di questo tipo. Diciamo che se provate questa modalità su persone o animali è molto più efficace. Nel caso di un oggetto come in questo caso io vi consiglio di utilizzare semplicemente la luce normale. Qui in alto a sinistra come potete vedere nuovamente abbiamo la possibilità di gestire la profondità di campo quindi possiamo decidere quanto deve essere sfocato il nostro sfondo. Questa è una cosa che io trovo particolarmente interessante anche se non sempre mi dà i risultati che voglio. E siamo arrivati all'ultima opzione che è quella della panoramica. Ora la panoramica la conoscerete già tutti ci dà sempre la possibilità di utilizzare tutte quante le nostre camere. La panoramica ci permette e funziona sia in orizzontale che in verticale di cominciare a fare una foto e poi di trascinare la nostra fotocamera in modo da abbracciare una porzione di scena più ampia di quella che potremmo vedere normalmente. Con la mia lente nativa io vedevo questa scena ma facendo la panoramica riesco a catturare una porzione di scena molto più ampia. Sono tutte opzioni molto interessanti che se usate opportunamente possono darci degli ottimi risultati. Bene amici come avete potuto vedere si tratta di un piccolo device con una piccola fotocamera con un piccolo sensore però le capacità tecnologiche compresse al suo interno sono assolutamente da esplorare. Come avete potuto vedere ci sono tantissime opzioni sarebbe follia cercare di esplorarle tutte all'interno di un unico video quindi in questo contenuto vi ho fatto una panoramica generale andandovi a dire secondo me a che cosa servono le varie opzioni e come si possono usare e implementare nei nostri flussi di lavoro. Se questo argomento vi interessa fatemelo sapere in un commento fatemi sapere se c'è un'opzione che vi interessa più delle altre. Io immagino che le tre camere del telefono lo sappiamo tutti ormai come funzionano ma se c'è qualcosa di più complesso su cui volete un approfondimento io vi invito a farmelo sapere in un commento in maniera tale che io possa veicolare i miei contenuti laddove c'è un interesse maggiore. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi io e iphone 15 pro vi diamo appuntamento al prossimo video